Il reparto di ematologia dell'asla di Teramo vanta una storia lunga 40 anni e anche una grande tradizione. Oggi, grazie ad un protocollo d'intesa con la sezione teramana dell'AIL, l'Associazione per la cura delle leucemie, linfomi e mielomi, è stato introdotto un nuovo importante servizio. Oltre 200 pazienti ematologici saranno assistiti dai volontari AIL, che si faranno carico di accompagnarli per ricevere le cure sia all'ospedale Mazzini che fuori provincia. Qual è il servizio più importante che offrite? Il servizio più importante che offriamo è quello di essere un punto di riferimento per il malato. Possiamo andarlo a prendere a casa, portarlo a fare le proprie cure e riportarlo nella sua abitazione. Poi possiamo portarlo a fare delle visite specialistiche dove lui vuole gratuitamente e credo che questa sia la cosa più importante che si possa fare per un malato. Noi abbiamo avuto questo reparto che nel passato è stato uno dei centri più importanti a Teramo, con il professor Quaglino dell'Università dell'Aquila. Oggi, grazie alla caprabietà del dottor Ricciotti, questo reparto è stato mantenuto in vita di operatori che ci hanno veramente creduto. Noi dobbiamo fare in modo che questa attività non cesse all'ospedale di Teramo, la stiamo valorizzando e quello che viene fatto oggi con l'AIL è la punta dell'iceberg di trovare questa sinergia tra ASL e l'associazione di volontariato per concretizzare l'attività che vogliamo porre in essere. Le cure disponibili presso l'unità di ematologia dell'ASL di Teramo sono in grado oggi di raggiungere risultati straordinari. Sempre più spesso si arriva alla guarigione, come spiega lo storico ematologo Teramano Maglio Ricciotti. 40 anni di ematologia, quali progressi sono stati fatti? L'ematologia, diciamo, noi veniamo da un'ematologia fatta col microscopio, una volta, adesso c'è tutta una tecnologia veramente importante. Adesso possiamo già parlare di guarigioni, cosa che tanti anni fa era solamente neanche pensabile. Una volta noi assistevamo il malato per il breve tempo con terapie molto aggressive e con dei risultati veramente non incoraggianti. Adesso, voglio dire, le terapie sono molto più agevoli, sono molto più sostenibili. Si parla anche addirittura di pazienti che vengono, fanno la terapia, vanno a casa e perciò dicevo io vado via con un rammarico di vedere queste terapie veramente fantastiche e di soddisfazione per chi le propone e anche per il paziente che ha questa opportunità di guarigione.